ah vedi no l'applauso e ora bisogna entrare batti batti grazie vai 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 allora vai vai tutto così basta basta partiamo allora cominciamo l'indolinello dell'altra settimana era semplice sono quattro ma è dispari era semplicissimo sono quattro ma è dispari era il pro dispari fumo profumo era un gioco di parole va bene sono quattro ma è dispari era il profumo va bene